Qui ci sono delle dolci di cocco, ma io dico, ma chi viene qui a comprare questa roba? Eh, tra le loro. C'è un po' che, un po' che, un po' che. Perramenta. Guarda, cosa sarà questo? Tipo un gancio? Sì. Eh? Un po' che, un po' che, un po' che. Viro, cappelli, cappellini, uoh le ciabatte, porca miseria, ma finì che oggi riesco a comprarmi le scarpe. Dove? Dove? Andiamo. Aspetta, aspetta, vieni qui. Qui ragazzi è proprio la vera Cambogia, eh? C'è anche il bar, qui vendono materiale elettrico, accomodano i televisori, accomodano i televisori, ho portato il suo televisore, far aggiustare. E così via andare, e sempre via andare. Ma le berrette di lana, fammi capire, le berrette di lana. Non è che la bandita di campia, capire. Ma le berrette di lana, ci va che tal di bestiazione. E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Mirchiano! Dov'è che hai visto? Ah, sono là! Cazzo! Non l'ho mica visti io! Ah, Renzo, hai l'occhio buono! A me piacciono già tutte queste cose qui, no? Guarda, 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 guarda l'albero di Natale che hanno fatto sopra alla palafitta qua! Le barche, ecco, vedi? Mi piacerebbe portarmi a casa una barche così? Rimpiamo di cactus! Ehi, cazzo! E' solo che ci costa un puttanaio! Ah! Questa è la discarica, eh! Ecco qui la discarica abusiva! Non so, vedete, è vero? Si, si, si vede, si vede! E là ci sono gli abitanti, a quanto pare, sono lì sopra, che vivono sopra un'acqua putrida! E' nera! Incredibile! Ma perché sei daltonico? E' incredibile! Questa è questo Honda, cazzo! Quello, c'ha l'Honda, è un po' vecchia, ma però... Questi sono tutti villaggi, che però, riviste a villaggi, tu non lo sai che villaggio sia? Perché non c'è scritto un caspita da nessuna parte! Hai visto? C'è una stradina lì che... Eh, chi diceva che era la strada! E' già il portalegna qua! Eh si! Però prima aspetta, voglio andare a vedere questa roba qui, che l'ho sempre vista da lontano! Sì! Cos'è per te quella roba? Ah! Sono gomme! Sono gomme! Sì! Sì! E' tutto per... Ma vedi questi... questi ciotoloni qui? Vabbè... Sì, questo non dovrebbe essere... Qui... Non dovrebbe essere... Sì, ma... No! 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 Questi sono dei portalegna, eh? O dei... O dei cosi, degli affari da riempire... tipo la sporcizia, tipo il nostro... Ah! Perché questo potrebbe essere un portalegna, vedi? Eh, non si! Questo non si chiude? Eh! Oh sì, si chiude anche lui... Sì, quelli sono belli, vedi? Sì, ma vedi com'è bello riportato? Sì, si sono ben certi. Sì, questa è una misura anche bella, buona. Quanto costa? In dollar? Un momento. Scrivilo, scrivilo qui. 15.000 dei loro soldi. E in dollar? Beh, in dollar 15.000. 15.000. 4.000 per un dollaro? Sì. 4.16. 4 dollari. Meno di 4 dollari. E poi li compri a due perché poi se ne prendi... Ma... Cosa vuoi dire? Costruiti da loro? Ma... Made in Cambogia o in Vienna? Sì, sì, comunque belle queste scuffette. Sì, sì, ma sono pesantissime. Sì, e beh... Comunque guarda che questo è un business, queste sono troppo grandi, ma un affare del genere, due dollari, due dollari lì, questi li porti via anche di meno. Fai conto che ti viene costata una, due o tre volte? Due volte? No. Trasportano pallo un'altra? Cinque euro. Due volte e mezzo? Eh, due, quattro, sei.